Un caloroso benvenuto a tutti. Nello studio che ci apprestiamo a compiere ci occuperemo in maniera approfondita dei capitoli 2 e 3 del libro dell'Apocalisse, ovvero della lettera alle sette chiese e del suo significato a riguardo della fine dei tempi. Per cominciare leggiamo qualche versetto a partire da Apocalisse 1, versetto 1. Nel primo capitolo infatti troviamo le basi per capire i capitoli 2 e 3, ma anche i capitoli successivi. Cominciamo perciò con la lettura. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Per ora ci fermiamo qui. Dunque, per capire a fondo le sette lettere, vorrei prima fare un'introduzione al libro dell'Apocalisse. E il primo capitolo di questo libro è fondamentale per capire il resto. Dal primo versetto capiamo innanzitutto che questo libro non è un libro sigillato come molti credono. Il libro infatti non comincia con le parole segreto di Gesù Cristo, ma con le parole rivelazione di Gesù Cristo. In greco, Apocalipsis, dove Apo significa via e Calipsis significa velo, via il velo. E così già dalle primissime parole capiamo che qui si intende portare allo scoperto qualcosa che prima era nascosto. Da questo principio capiamo che vale la pena studiare questo libro, in quanto Dio vorrebbe rivelarci delle cose preziose. Tuttavia, dobbiamo anche notare che qui è scritto, rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Ebbene, tempo fa, quando era ancora al ginnasio, quindi parecchio tempo fa, si avvicinò un compagno di scuola e mi disse, ho cominciato a leggere la Bibbia e non ci ho capito proprio niente. Così gli ho chiesto, cosa hai letto? E lui, l'Apocalisse. Gli ho detto, guarda, che quel libro non è il libro per te. Quello è un libro scritto per persone ubbidienti a Dio. Sì, lì è scritto, rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. È indirizzato quindi a persone che sono servi di Gesù Cristo e che perciò ubbidiscono alla sua parola. Solo per questi è una rivelazione, non per gli altri. E ora capiamo anche il perché per molti il libro dell'Apocalisse è incomprensibile. Ha a che fare con questo fattore. Al mio compagno gli dissi, leggi il Vangelo di Giovanni. Lì, infatti, alla fine del capitolo 20, è scritto che le cose scritte in quel libro sono state scritte «Affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome». Il Vangelo di Giovanni, quindi, è stato scritto per persone che hanno ancora un velo sulla persona di Gesù Cristo e che deve essere rimosso. Ma l'Apocalisse non è nemmeno scritto per tutti i credenti, ma per i servi di Gesù Cristo. Certamente ogni credente dovrebbe anche essere un servo. Ma se lo si è davvero, questa è una domanda che ognuno dovrebbe porre a se stesso. Ma un'altra cosa importante la leggiamo ancora al versetto 3. «Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia». Qui abbiamo una promessa di beatitudine da parte di Dio rivolta a chi si occupa di questo libro. Tutti vorrebbero vivere in una condizione di beatitudine. È qualcosa di scontato. Ma la domanda è, come fare? Ebbene, una ricetta che la Bibbia ci offre è appunto quella di occuparci di questo libro. E così sappiamo anche che quest'oggi per tutti noi sarà un giorno beato. Proseguiamo quindi. Al versetto 4 abbiamo letto che i destinatari di questo libro sono sette chiese. È scritto «Giovanni alle sette chiese che sono in Asia». Qui con Asia non è inteso il continente asiatico. Questo l'ho dovuto spiegare una volta quando mi sono trovato a tenere una conferenza sull'Apocalisse in Thailandia. Con Asia qui non è intesa la Thailandia, ma una provincia che fa sì parte del continente asiatico, ma che si trova all'estremo occidente di quel continente, che corrisponde all'odierna Turchia. Il territorio inteso qui era un territorio più o meno grande come la Svizzera, nominato Asia. Lì c'erano le seguenti chiese. Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia e l'Audicea. Ma in quella provincia c'erano anche altre città, come Ierapoli, eccetera. Comunque tutto quel territorio era noto sotto il nome Asia. E alle suddette chiese Giovanni quindi scrive il libro dell'Apocalisse. Più avanti al versetto 9 scopriamo che Giovanni era stato bandito e si trovava sull'isola di Patmos. Così è scritto. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, ero sull'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Giovanni durante i suoi ultimi anni di vita, anni in cui si stava prodigando ad annunciare l'Evangelo nella città di Efeso, una città importantissima di quella regione, fu esiliato sull'isola di Patmos da parte dell'imperatore Domiziano. In pratica si trovava qui, sull'immagine che potete vedere. Su questa cartina notiamo che Patmos si trovava proprio di fronte alla provincia Asia. Giovanni quindi era stato esiliato e come è scritto si trovava da solo nel giorno del Signore. Ora l'espressione usata in greco per giorno del Signore, ossia Kiriake Emera, significa letteralmente giorno appartenente al Signore. Questo è il primo giorno della settimana, ovvero il giorno della risurrezione. E così Giovanni quel giorno non potette radunarsi come di solito con i suoi fratelli in Cristo, ma in cambio ebbe la grazia di ricevere delle rivelazioni celesti e di vedere Gesù Cristo. E lo vide con indosso una veste che gli giungeva fino ai piedi. Interessante a proposito che la definizione per quella veste in greco è la stessa usata nella traduzione greca dell'Antico Testamento, una setua ginta, per definire in Esodo capitolo 28 la lunga veste che indossava il sommo sacerdote. Sicché Giovanni vide il Signore Gesù nelle vesti di sommo sacerdote e lo vide camminare in mezzo a sette lampade d'oro. Sono quindi sette candelabri d'oro che Giovanni ha visto. Cosa significa? Nel tabernacolo c'era solamente un candelabro, ma più in là nel Tempio di Salomone ce n'erano undici. C'era l'originale di Mosè e il re Salomone aggiunse ancora dieci menorot. Menorot in ebraico è il plurale di menorà. Aggiunse quindi altri dieci candelabri d'oro all'originale. Tornando a Giovanni, Giovanni vede in Apocalisse 1 il Signore in mezzo a sette candelabri. Poi più in là si spiega che ognuna di queste lampade rappresenta una chiesa locale alla quale viene diretto il libro dell'Apocalisse e alla quale vengono dirette anche le sette lettere. Giovanni dunque vede il Signore Gesù e lo vede camminare in mezzo a queste sette lampade e a proposito è scritto che indossava una cinta d'oro intorno al petto. Cosa significa? Beh, quando indosso una cinta allora la porto normalmente intorno ai fianchi e non intorno al petto. Non ci sta. Ebbene, chi indossava solitamente la cinta intorno al petto? Anticamente erano i sacerdoti. I sacerdoti nel tempio portavano la cinta molto stretta intorno al petto e questo perché la pressione esercitata dalla cinta serviva a ricordare loro che il servizio svolto doveva essere effettuato con la massima concentrazione. Doveva esserci la massima tensione nei confronti del Dio Santo. Ma perché una cinta d'oro? Ebbene, i vestiti del sommo sacerdote erano composti da sette elementi diversi. Tra questi c'era anche molto oro. Per questo motivo, nella letteratura rapinica nel Talmud, i vestiti del sommo sacerdote vengono chiamati Big Day Sahav, ovvero abiti d'oro. Ma, come potete vedere da questa immagine, in questi abiti c'erano anche altri elementi. Ma, a prescindere, venivano chiamati abiti d'oro. E in Apocalisse abbiamo letto che il Signore Gesù indossava una cintura d'oro. E la cintura del sommo sacerdote era realizzata con quattro colori diversi, come prescritto nel libro dell'Esodo. Lino bianco, porporino violaceo, scarlatto e filamenti in oro. Ed ecco perché la definizione cintura d'oro. Si tratta appunto della cinta del sommo sacerdote. Poi è detto che il suo capo e i suoi capelli erano bianchi. I capelli bianchi è chiaro cosa significa. Quella descrizione infatti corrisponde perfettamente alla descrizione del Dio eterno che troviamo in Daniele 7. Il vegliardo. In quel passo è scritto che il vegliardo viene e che ha capelli bianchi. E qui dunque il Signore Gesù è descritto uguale. Ma è scritto ancora che anche il suo capo era bianco. Ebbene, il termine usato in greco, kephalè, significa sia testa, cioè capo, ma anche copricapo. Perciò con questa definizione si intende il copricapo che indossava il sommo sacerdote, che era in lino e di colore bianco. Ma ancora è scritto che il Signore Gesù era a piedi nudi. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace. Il fatto di essere a piedi nudi era qualcosa di usuale. I sacerdoti nel tempio, così come anche i visitatori del tempio, potevano stare lì solamente a piedi nudi. Era infatti un suolo sacro. E di conseguenza bisognava togliersi i calzari, proprio come avvenne anche a Mosè, quando si trovò sul suolo dove c'era il cespuglio rovente. E così il Signore Gesù, quindi, lo troviamo descritto nelle vesti di sommo sacerdote. Ma allo stesso tempo viene descritto anche come giudice. Infatti, leggiamo poi sempre nel primo capitolo che i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Aveva uno sguardo che penetrava ogni cosa. E Giovanni dice che quando vide il Signore Gesù in quella apparizione, era come un figlio d'uomo. Anche qui abbiamo la stessa espressione che troviamo ancora una volta in Daniele 7, dove il Messia scende dal cielo da sulle nuvole per prendere il comando della terra ed è descritto che arriva come un figlio d'uomo. E l'espressione figlio d'uomo è già nell'Antico Testamento un titolo speciale usato per definire il Messia. Il Messia che dovrà venire un giorno come re e giudice della terra. E così ora capiamo che in Apocalisse 1 il Signore Gesù appare come sommo sacerdote e come giudice della terra. E il Signore Gesù cammina in mezzo alle sette lampade d'oro, così come il sommo sacerdote all'epoca del Tempio di Salomone controllava sempre lo stato delle lampade. E se c'era qualcosa che non andava, allora il sommo sacerdote doveva sistemare il problema. Questo ci preannuncia già cosa verrà di seguito con le sette chiese. Il Signore Gesù infatti osserva con sguardo penetrante, con occhi come fiamma di fuoco allo stato delle sette chiese. Vedremo che inizialmente nelle lettere cita sempre gli aspetti positivi della singola chiesa, poi parla delle cose che non vanno bene. Porta tutto alla luce. E da questo impariamo anche noi che in primo luogo dobbiamo riconoscere gli aspetti positivi, che dobbiamo avere prima un occhio per le cose buone. Ma questo non significa che una volta viste le cose buone, poi chiudiamo gli occhi sulle cose che non vanno bene. Il Signore Gesù quindi ci dà l'esempio da seguire. Questo scenario iniziale di Gesù Cristo rispecchia perfettamente l'intero tema del libro dell'Apocalisse, in quanto in questo libro il Signore Gesù viene presentato come giudice della Terra. Ma perché allora abbiamo prima queste sette lettere e poi i giudizi? Questo è un principio importante che possiamo trarre da 1 Pietro 4, dal versetto 17. Qui leggiamo «Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?» Si tratta quindi di un principio. Il giudizio comincia partendo dalla casa di Dio e poi tocca al resto della Terra. Perché? Perché la Chiesa ha molte più responsabilità, in quanto viene costantemente messa a confronto con la parola di Dio. La Chiesa ha infatti tutto il necessario per conoscere la volontà e i pensieri di Dio, di conoscere chi Dio è. Di conseguenza i credenti hanno maggiori responsabilità. Ecco perché Pietro cita questo principio. Il giudizio comincia dalla casa di Dio e poi tocca alla Terra. E se già per la casa di Dio la questione è così solenne, seria e sotto certi aspetti anche drammatici, dice Pietro. Dove finirà l'empio? Tornando al capitolo primo, Giovanni cade davanti al Signore in ginocchio. E qui notiamo che non gli viene impedito. Più in là, infatti, nell'Apocalisse, Giovanni si trova in una situazione in cui vorrebbe prostrarsi davanti a un angelo. Ma l'angelo gli dice subito, non lo fare, sono un servitore come te. La venerazione agli angeli è qualcosa che non va affatto, è idolatria. Ma qui al capitolo 1, il Signore Gesù vediamo che non impedisce a Giovanni di cadere sulle ginocchia. E questo perché il Signore Gesù è Dio e uomo in una persona. Ed è anche sommo sacerdote e giudice. Nell'Antico Testamento, il sommo sacerdote era colui che offriva il sacrificio in modo che l'uomo si potesse redimere con Dio. Perciò, quando qui il Signore lo vediamo come sommo sacerdote, è nella veste del Redentore, del Salvatore del mondo. Ma l'Apocalisse ci mostra anche che il Giudice della Terra che un giorno verrà è la medesima persona. E per chi non lo vuole riconoscere come il Salvatore del mondo, lo conoscerà forzatamente come giudice. In Apocalisse 1, 19, il Signore Gesù dice poi a Giovanni, scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Questo versetto, signori, è il versetto chiave per capire questo libro. Perché? Perché qui ci viene indicata la corretta suddivisione dell'Apocalisse. Qui, in questo versetto, abbiamo le tre sezioni del libro. Prima sezione, le cose che hai visto. È molto chiaro. Si intende il primo capitolo. Giovanni ha visto il Signore Gesù come sommo sacerdote e come giudice della Terra. E questo, abbiamo detto, essere il tema principale del libro. Il Salvatore è la medesima persona del giudice che dovrà avvenire. E ora, cosa comprende la seconda sezione? Abbiamo ancora la parte del versetto che dice quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Per capire, apriamo ora al capitolo 4. Ci troviamo appena dopo che Giovanni termina di scrivere le sette lettere. E qui, al versetto 1, è scritto. Dopo queste cose, vidi una porta aperta nel cielo. E la prima voce, che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba, mi disse, sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Qui abbiamo la stessissima espressione usata al versetto 19. Quelle che devono avvenire in seguito. E così è chiaro anche che la terza sezione comincia dal capitolo 4, versetto 1. E così rimane ora solo da scoprire dove si trova la seconda sezione del libro. La sezione del quelle che sono. Molto semplice. Non è il capitolo 1 e non sono i capitoli che vanno da 4 in poi. Perciò, per esclusione, rimangono solo i capitoli 2 e 3. E così ora è anche chiaro che il tema sulle sette chiese di cui oggi cominceremo ad occuparci comprende la seconda sezione del libro dell'Apocalisse, il quale è appunto formato da tre sezioni. Occupando le sette lettere un'intera sezione, questo ci indica che queste lettere sono di fondamentale importanza per noi. Ora, a partire dal capitolo 4, ci viene mostrato chiaramente come avverrà il giudizio futuro riservato a questa terra. Tuttavia, possiamo anche dichiarare apertamente che, di tutti quei giudizi espressi dal capitolo 4 in poi, non è avvenuto ancora nulla ad oggi. Sono tutte cose future. Qualcuno ora potrebbe dire, scusa, ma tieni ripetutamente conferenze qua e là sulla fine dei tempi, profezie, e parli di tutti quegli eventi che si sono profeticamente adempiuti. Sì, infatti, non ho detto che non viviamo alla fine dei tempi. Dico solamente che i giudizi che vanno dal capitolo 4 in poi dell'Apocalisse sono tutti ancora futuri. Ma c'è da dire anche che, certamente, stiamo vivendo nel periodo della fine dei tempi. Biblicamente, infatti, quel periodo è il periodo in cui il popolo ebraico sparso per il mondo torna alla sua terra e questo processo di rientro avviene in forma di ondate. E noi oggi possiamo tranquillamente constatare quanto avvenuto finora. Nel 1882 avvenne la prima ondata, il primo rientro in massa da parte degli ebrei. Poi ne seguì una seconda, una terza e così via. E oggi abbiamo che 3 milioni di ebrei, che erano all'estero, sono rientrati nella terra dei loro padri. Hanno rifondato lo Stato di Israele, la lingua ebraica da essere morta e ritornata ad essere parlata, eccetera, eccetera. Ho scritto un libro dal titolo Viviamo davvero alla fine dei tempi? 180 profezie adempiute. Tutti questi dettagli li ho trattati punto per punto. Dal 1882 ad oggi si sono adempiute circa 180 singole profezie sulla fine dei tempi annunciati nella Bibbia. Tuttavia nulla si è adempiuto ancora da Apocalisse 4 in poi. E questo è importante da distinguere. E ora, noi dove ci troviamo in tutto questo? E poi qualcuno potrebbe dire, scusa, non avevamo appena letto in Apocalisse 1, 3? Beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte? Perché il tempo è vicino? Beh, se il tempo era già vicino allora e gli eventi del capitolo 4 in seguito sono ancora futuro, allora questo significa che sono passati duemila anni. Come si può quindi dichiarare che il tempo è vicino? Eh, la chiave sono i capitoli 2 e 3 di Apocalisse. Tra un po' vedremo che in queste sette lettere il Signore Gesù giudica quelle sette chiese che si erano venute a formare al tempo di Giovanni e il Signore Gesù le giudica tutte apertamente. E i giudizi espressi su quelle sette chiese avevano tutti un significato letterale per ognuna di quelle chiese. Tuttavia questo non è l'unico significato di quelle lettere. Essendo essenzialmente infatti il libro dell'Apocalisse un libro profetico, quelle sette lettere assumono contemporaneamente anche un significato profetico. E quel significato ha cominciato ad adempiersi già a partire dall'epoca di Giovanni. Ed ecco perché Giovanni potette scrivere il tempo è vicino. Così come al primo versetto dove scrisse le cose che devono avvenire tra breve. Le sette lettere sono lettere che allo stesso tempo in linguaggio figurativo hanno anche un significato profetico. Perché ho detto in linguaggio figurativo? Ebbene in Apocalisse 1 abbiamo letto rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per rendere nota ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Quindi manifestò. E la parola manifestare la Bibbia alberfelder lo spiega molto bene nelle note. Manifestare significa rendere noto attraverso segni. Vuol dire quindi che si intende comunicare qualcosa attraverso un linguaggio figurativo. Già nella Bibbia troviamo profezie espresse attraverso un linguaggio diretto. Per esempio Ezechiele 36 24 lì è scritto vi prenderò dalle nazioni vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Qui non c'è nulla di simbolico. È una profezia espressa con linguaggio chiaro e diretto in cui Dio dice che raccoglierà il suo popolo sparso in tutto il mondo e lo ricondurrà nel loro paese. L'adempimento lo vediamo ai nostri giorni. Tre milioni di ebrei da tutti i cinque continenti da centotrenta nazioni diverse sono rientrati a casa. E a proposito in questo versetto diviene chiaro anche a chi appartiene quella terra. Dio dice agli israeliti vi ricondurrò nel vostro paese. Ma dicevo nella Bibbia troviamo anche profezie dove Dio utilizza immagini per comunicarle e queste immagini sono molto preziose. Perché? Perché un'immagine, un simbolo, è essenzialmente il sommario di un pensiero esteso, espresso in una forma ridotta. Per fare un esempio, qui in Apocalisse le sette chiese sono paragonate a sette lampade d'oro. Nel linguaggio simbolico significa che ogni chiesa è una menorà d'oro. Ebbene, la menorà non era una lampada qualsiasi. La menorà era una lampada che si trovava unicamente nel santuario, nella casa di Dio. È importante sapere che nel santuario del tabernacolo, così come più in là anche nel santuario del primo e del secondo tempio, non c'erano finestre. La fonte di luce del santuario era la menorà. La menorà quindi diffondeva luce divina alla presenza di Dio. E questo ci dice che Dio non ha bisogno della luce della filosofia, la luce degli empi. E per questo motivo niente finestre nel tabernacolo. Ne va della luce divina. Poi abbiamo il numero sette. E sette è il numero della pienezza. Considerando questo, capiamo quindi che ogni chiesa quando è radunata ha il compito di essere ciò che è il tempio, di essere la casa di Dio. Una casa in cui non bisogna lasciare entrare la luce della filosofia di questo mondo o della psicologia eccetera, ma che è illuminata unicamente della luce della parola di Dio. E, come ho detto, nel tempio poteva capitare che una lampada per qualche motivo smettesse di bruciare e dare luce. E in quel caso il sommo sacerdote interveniva per manutenerla. E così vediamo che questo simbolo, questa immagine della lampada d'oro, esprive moltissimi pensieri. In forma ridotta ci spiega il compito della chiesa, in cosa consistono i pericoli e come questi pericoli vanno sistemati. Puntualmente va tagliato lo stoppino, bisogna eliminare i residui, deve essere reso possibile che l'olio, l'immagine dello Spirito Santo, possa affluire impregnando lo stoppino, il quale poi emanerà nuovamente luce. Vediamo quindi che tutti questi pensieri possono essere racchiusi in un unico simbolo. Perciò, analizzando ora i capitoli 2 e 3 di Apocalisse, vedremo che questi capitoli contengono anche una profezia sulla storia della chiesa fino al suo rapimento. Noteremo infatti che la sequenza di come troviamo elencate queste sette chiese, quindi Efeso, Smirne, fino all'Odicea, corrisponde figurativamente alla storia della chiesa che terminerà con il rapimento. Per spiegare, abbiamo già letto il primo versetto del capitolo 4, abbiamo detto che lì comincia la terza sezione del libro. Riprendiamo ora quel passo e leggiamo anche il seguito. Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse, sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto. Qui abbiamo che Giovanni viene rapito su in cielo e in particolare viene rapito nel luogo in cui risiede il trono, ovvero nel luogo santissimo del tempio celeste. Ora potremmo chiederci il rapimento di Giovanni rappresenta in linguaggio figurativo il rapimento della chiesa? Tra un po' vi darò la prova che lo è. La risposta quindi è sì, assolutamente sì. Il rapimento in spirito di Giovanni è un'indicazione del rapimento della chiesa. Quest'ultimo apostolo di Cristo rapito in cielo rappresenta il rapimento della chiesa. Prima di arrivarci però faremo una breve panoramica sulle sette lettere. Il significato profetico delle sette lettere è la storia della chiesa divisa in sette epoche. Efeso vedremo che rappresenta l'epoca della chiesa non ancora perseguitata al termine del periodo apostolico. La chiesa di Efeso infatti non aveva problemi legati alle persecuzioni, ma il suo problema fondamentalmente era che aveva perso quell'amore ardente verso il Signore Gesù. Questa chiesa perciò è la rappresentante di tutte le chiese di quell'epoca che avevano lo stesso problema. Tuttavia c'è da dire anche che all'epoca intorno al 95 d.C. c'erano anche chiese perseguitate, chiese che quindi soffrivano di persecuzioni, ma queste sono rappresentate dalla chiesa di Smirne, dove nella lettera vedremo viene trattata la persecuzione dei cristiani. E questa chiesa, contrassegnata dalla persecuzione, durerà fino al 311 d.C. Lì avvenne la svolta con l'imperatore Costantino. Sta di fatto che in questo lungo periodo, che va dal I secolo fino all'inizio del IV secolo, la chiesa è stata ripetutamente perseguitata. Molto spesso capitava che erano persecuzioni di natura locale, non globale, ma capitava anche, come per esempio all'epoca dell'imperatore Deocleziano, che gran parte della chiesa venisse perseguitata in tutto il territorio dell'impero romano, dove molti credenti hanno lasciato la vita. Poi però, con Pergamo, vedremo che profeticamente la lettera ci indica l'epoca a partire dalla svolta costantiniana. E questa era l'epoca in cui il cristianessimo divenne prima una religione legale, infine addirittura la religione di Stato. Vi fu una svolta completa, ed è proprio quella svolta che ci viene presentata nella lettera. Tuttavia questa svolta portò ad uno sviluppo molto, molto negativo del cristianessimo. E in Tiatiri poi vedremo profeticamente la chiesa papale di Roma, a partire dall'anno 440 d.C. Ed è davvero qualcosa di impressionante, come in quella lettera figurativamente si rappresenta la fase di quella chiesa. Con Sardi poi vedremo quella chiesa che ha a che fare molto con i festeggiamenti che ci sono attualmente qui da noi. Intendo l'anniversario della riformazione. Dunque, la riformazione ebbe inizio il 31 ottobre 1517. E nella lettera Sardi viene messa a fuoco la riforma protestante. E la cosa triste da notare in quella lettera è che in quel risveglio provocato dalla grazia di Dio, che farà sì che i credenti ritornino alle sacre scritture, molto presto avverrà un declino. E questo declino ci viene presentato appunto nella lettera Sardi. Ma di seguito, nella sesta lettera indirizzata a Filadelfia, abbiamo un risveglio. E infatti, storicamente, dopo che la riforma protestante visse il suo declino, Dio diede nuovamente grazia. E questa grazia fece sì che nel XVIII e XIX secolo avvenne un gigantesco risveglio che portò alla nascita di un gran numero di chiese libere. Non hanno dismesso la riforma, ma contava appunto solo la scrittura, solo la fede, solo attraverso la grazia, solo attraverso Cristo. E in questa lettera vedremo anche che emerge sempre più il pensiero di Dio sulle caratteristiche essenziali che la sua chiesa ha. E a proposito, Filadelfia significa amore fraterno. In Filadelfia si è riconosciuti cosa significa vivere nella pratica la comunione fraterna. E una cosa molto interessante in quella lettera è che non c'è nemmeno un rimprovero. E questo è valido anche per la lettera smirne, ma in tutte le altre lettere troviamo dei rimproveri. Poi però vedremo profeticamente che l'audicea rappresenta il declino di quel risveglio avvenuto nel XVIII e XIX secolo. E questo declino è avvenuto nel XX e XXI secolo. Si tratta dell'apostasia da parte delle chiese libere. Perciò il tema che tratteremo in questo studio sulle sette chiese e la relazione con la fine dei tempi è di grande impatto. In questo studio infatti metteremo particolarmente a fuoco le ultime due chiese, ma tratteremo comunque tutte nel dettaglio. Dunque abbiamo visto che nel primo capitolo di Apocalisse il Signore Gesù mostra le tre sezioni del libro. I capitoli 2 e 3 è la sezione delle cose che sono, ovvero dell'epoca presente. Il tempo della grazia, il tempo della chiesa, il tempo in cui è la chiesa a portare la testimonianza sulla terra, non Israele. Nell'Antico Testamento infatti era Israele a portare la testimonianza, ma per il fatto che la massa del popolo ha respinto il Messia promesso, il compito di portare la testimonianza le è stato tolto ed è stato affidato alla chiesa, la quale è composta in gran parte da salvati provenienti da tutti i popoli della terra, da ebrei anche, ma la gran parte proviene dai popoli. Tuttavia la testimonianza della chiesa non doveva essere per sempre. Questo è l'errore che sta alla base della dottrina della sostituzione, la quale è completamente sbagliata. La teologia della sostituzione pretende che la chiesa ha sostituito Israele, ma questo non è affatto vero. In Romani 9.11 spiega, Dio ha ripudiato Israele? No di certo, dice l'Apostolo Paolo, e poi spiega che Israele è stata messa per un periodo, diciamo, in panchina. Anche oggi abbiamo un residuo di Israele credente, che insieme ai credenti di tutte le nazioni porta la testimonianza, ma è appunto la testimonianza portata dalla chiesa. Tuttavia Romani 11 mette in chiaro che quando si compirà la pienezza delle nazioni, ovvero quando si raggiungerà il numero stabilito da Dio dei credenti appartenenti alla chiesa, allora tutto Israele sarà salvata. Di conseguenza è chiaro che Israele come nazione ha un futuro nei piani di Dio. Ma, come ho detto, la pienezza delle nazioni è un determinato numero che solo Dio conosce. Un numero di persone proveniente da tutti i popoli, compreso Israele, che arrivano alla fede e appartengono alla chiesa, la quale si è formata a Pentecoste. E quando si sarà raggiunto il numero, o come dice Paolo, la pienezza delle nazioni, allora verrà il rapimento della chiesa. E allora Dio riprenderà nuovamente il rapporto con Israele, dando loro il compito di portare nuovamente la testimonianza sulla terra. E così ora capiamo anche perché l'Apocalisse, ma da notare solamente al capitolo 7, narra poi dei 144.000 provenienti da tutte le dodici tribù di Israele. Quelli non sono la chiesa. E ancor meno sono i testimoni di Geova. Vabbè, ma questo non era il tema di oggi. Ma quello che voglio dire è che lì, in quel capitolo, compare Israele. I 144.000 sigillati riceveranno il compito di portare la testimonianza. Compito appunto che fino al rapimento aveva avuto la chiesa. Ed ecco perché, ripeto, Apocalisse 1 e 2 è la sezione del quelle che sono. Si tratta dell'epoca presente, in cui la chiesa porta la testimonianza. Ma poi avviene il rapimento. Ora devo spiegare ancora che abbiamo già visto che in Apocalisse le sette chiese corrispondono a sette lampade d'oro. Ogni chiesa, infatti, ha il compito, quando si raduna, di annunciare la parola di Dio con chiarezza divina. Ma ancora, le sette chiese vengono anche rapportate a sette stelle. E questo è molto interessante, in quanto abbiamo un altro simbolo qui. Le stelle, infatti, sono anch'essi corpi luminosi, diffondono luce, ma non nel santuario, bensì sulla terra. E sono corpi celesti. Questo ci dice che la chiesa ha altresì il compito di illuminare con luce divina una terra che, immersa nelle tenebre, ha perso l'orientamento. Perciò, nelle lampade vediamo il compito della chiesa radunata di diffondere luce nel suo interno, nel santuario, verso i credenti. E nelle stelle vediamo che, come chiesa, abbiamo insieme il compito di diffondere il Vangelo e, sulla base della parola di Dio, dare chiarezza. Ecco il motivo per cui questi due simboli rappresentano la chiesa. Non significano la stessa cosa. Nel caso delle lampade, rappresentano un compito per l'interno e, nel caso delle stelle, un compito per l'esterno. Bene, andiamo avanti. Abbiamo letto nei primi versetti del capitolo 4 che Giovanni viene rapito in cielo. E non in un luogo qualunque. Già, in Ebrei 11 possiamo leggere a riguardo dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che erano pellegrini e che vivevano in tende. Ed è scritto che ambivano ad una patria. E questa patria non era la terra da dove erano emigrati, da Uri in Caldea, nell'odierno Iraq. Infatti, la lettera ai ebrei spiega che, se così fosse, allora avrebbero avuto tutto il tempo necessario per tornare in quella terra. No, i patriarchi ambivano ad una patria celeste. E perciò in cielo esiste una patria. Ora, sempre in Ebrei 11 e poi anche nel capitolo 12, possiamo leggere che in cielo vi è anche una città che ha costruito Dio. E questa è la Gerusalemme celeste. Una città a tutti gli effetti. Meravigliosa. Ma ancora da Apocalisse veniamo a conoscenza che in cielo c'è un tempio originale. In Apocalisse 11 possiamo leggere che il tempio di Dio fu aperto e che apparve l'arca del suo patto. Con questo, quindi, è chiaro. In cielo c'è un tempio. Ebbene, Giovanni viene rapito proprio in questo tempio. E anche qui, non in un luogo qualunque, che so, nel cortile. E non viene nemmeno rapito nel luogo santo, ma si trova nel Santissimo. Infatti vede il trono di Dio e vede le quattro creature viventi, che sono quattro cherubini, così come erano rappresentati anche nel tempio di Salomone, intorno al trono. Giovanni, perciò, viene rapito nel cuore del cielo, nel luogo santissimo. Ebbene, al capitolo 4, versetto 4, leggiamo ancora che attorno al trono c'erano ventiquattro troni, su cui stavano seduti ventiquattro anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Chi sono questi? Angeli non sono. Lo possiamo dire perché al capitolo 5, versetto 9, si legge che questi ventiquattro anziani pregano rivolti all'agnello, al Signore Gesù, e pronunciano le parole Ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Ah, sono quindi persone salvate che pronunciano queste parole. Ma chi sono queste persone salvate? Beh, lo possiamo scoprire. È scritto che sono sacerdoti e re. Questi termini li abbiamo già letti in Apocalisse 1. Lì, partendo dalla seconda parte del versetto 5, è scritto Qui, al capitolo 1, queste parole sono dirette alle chiese e al capitolo 5 i ventiquattro anziani sono appunto sacerdoti e re. Di conseguenza, questa è un'indicazione alla chiesa che lì si trova in cielo. Ora però può nascere la domanda, ma forse questi credenti sono credenti morti che sono già in paradiso? Ebbene, la risposta è no. È l'intera chiesa. E perché possiamo dirlo? Dunque, Giovanni conosceva molto bene le usanze del Tempio in Gerusalemme. Le cose lì venivano organizzate in maniera seguente. E fu re Davide ad impostare già questo tipo di organizzazione in Prima Cronaca 24. Davide suddivise l'intera classe sacerdotale, composta da migliaia di sacerdoti, in ventiquattro classi. E ogni classe aveva il proprio sacerdozio che andava da Shabbat a Shabbat e poi toccava la classe successiva. In questo modo si coprivano ventiquattro settimane dell'anno e poi si ricominciava da capo, coprendo così in tutto quarantotto settimane. Questo però non bastava per coprire l'intero anno. Ora, le grandi ricorrenze obbligatorie date dalla legge di Mosè, cioè Pasqua, Pentecoste e alla festa delle capanne, in quelle ricorrenze tutti gli israeliti dovevano andare a Gerusalemme. Era obbligatorio in quei giorni tutto Israele a Gerusalemme. Di conseguenza in quei giorni c'era bisogno di così tanti sacerdoti per il servizio che necessitava la costante presenza di tutte le ventiquattro classi sacerdotali. Ogni classe aveva a capo un anziano. E così ci siamo. Giovanni viene rapito in cielo e vede i ventiquattro anziani e sono tutti radunati. Perciò questo significa che anche l'intero popolo composto da sacerdoti e re si trova su in cielo. E di conseguenza significa che l'intera chiesa è stata rapita. Ed ecco perché prima, a riguardo del capitolo 4, versetto 1, dove Giovanni viene rapito in cielo, ho detto che quell'atto simboleggia il rapimento della chiesa. Infatti Giovanni sale e vede i ventiquattro anziani rappresentati simbolicamente. Tutto questo appunto è un linguaggio figurativo. E poi, importante ancora, Giovanni vede il Signore prendere il libro con i sette sigilli, apre i sette sigilli uno alla volta e i giudizi di Dio cadono sulla terra. Con questo ora capiamo anche il perché nulla di quello che è scritto a partire dal capitolo 4 è ancora avvenuto. Non è avvenuto perché la chiesa è ancora qui sulla terra. Il rapimento, infatti, non è avvenuto. Già, e finché la chiesa è ancora sulla terra non può nemmeno accadere. Moltissime profezie bibliche che sulla fine dei tempi si sono adempiute. Ma gli eventi a partire dal capitolo 4 sono ancora tutti futuri. E in quel tempo, appunto, il residuo di Israele prenderà la testimonianza al posto della chiesa. Lì entrano in azione i 144.000. Bene, tenendo presente quanto detto dall'inizio ad ora, entriamo nel vivo del nostro tema. Leggiamo perciò la lettera a Efeso in Apocalisse capitolo 2, versetto 1. Qui è scritto All'angelo della chiesa in Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Dunque, prima di tutto è da notare che in ogni lettera il Signore Gesù si presenta in modo diverso. E il modo in cui volta per volta si presenta è sempre in relazione con il messaggio da dare alla chiesa chiamata in causa. E ancora, la fine di ogni lettera il Signore Gesù la conclude sempre con le parole. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È interessante questo tipo di conclusione, per il fatto che la lettera a Efeso non riguarda solamente la chiesa di Efeso, ma riguarda tutte le chiese. Sì, l'Apocalisse infatti fu inviata inizialmente a tutte e sette le chiese. E queste lettere molto personali rivolte alle singole chiese le ricevettero tutti. Questo significa che i credenti in l'Odicea conoscevano il problema di Efeso, e quelli in Efeso conoscevano il problema che vi era in l'Odicea. Ma ancora conoscevano il problema in Sardin, Tiatiri, eccetera. Cosa ricaviamo da questo? Questo ci indica che il nostro ragionamento non deve essere del tipo. Ciò che avviene all'interno della nostra comunità locale non riguarda le altre comunità. Questo concetto deve essere sempre molto chiaro. Il corpo di Cristo comprende sempre tutti i credenti. Tutti i veri credenti che sono sulla Terra. E questo, secondo Prima Corinzi, 12. Quindi non solo i credenti dell'Assemblea locale. In nessun passo troviamo che un'Assemblea locale viene definita il corpo di Cristo. In effetti c'è da dire che la lettera ai Corinzi, capitolo 12, quando Paolo parla a quella chiesa, dice loro, ora voi siete corpo di Cristo. Ma qui, importante da notare, e la CEI qui ha tradotto molto correttamente, è che Paolo non dice ai Corinzi, voi siete il corpo di Cristo. Se avesse detto, voi siete il corpo di Cristo, allora avrebbe significato che unicamente la chiesa di Corinzi sarebbe il corpo di Cristo. Paolo invece dice, ora voi siete corpo di Cristo. Sì, significa che i Corinzi appartengono al corpo di Cristo, esattamente come il resto delle chiese. E infatti, Paolo che gli parla non apparteneva a quella chiesa dei Corinzi. E nonostante ciò, dice al versetto 13, sempre di quel capitolo, ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo. In pratica Paolo, che non apparteneva all'Assemblea dei Corinzi, si fa uno con i Corinzi e dice che siamo tutti battezzati in uno spirito nel medesimo corpo. E così è chiaro che il corpo di Cristo abbraccia tutti i credenti, tutti i credenti che sono sulla terra, e non è quindi solo una comunità locale. E per questo motivo, di conseguenza, dovremmo anche preoccuparci sulle situazioni delle altre chiese, che magari non frequentiamo, pregando per loro, portando queste situazioni davanti al trono della grazia. Questo perché sono situazioni che ci riguardano tutti. Per cui, se vediamo che intorno a noi ci sono delle realtà che deviano dalla via, allora non possiamo dire questo non ci riguarda. No, queste situazioni ci devono coinvolgere. Perché, essendo coinvolti e pregando, si esprime l'amore che ci lega l'un l'altro. E così, dalla frase espressa dal Signore Gesù, «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese», ricaviamo che ogni lettera riguarda sempre tutte le chiese». E così ora diventa anche chiaro che, per esempio, quelli in Laodicea, oppure diciamo quelli in Filadelfia, non potevano dire «Eh, il problema dell'aver lasciato il primo amore è un problema di Efeso. Noi questo non ce l'abbiamo». No, quando quelli in Filadelfia leggevano «Hai abbandonato il tuo primo amore», ognuno doveva chiedersi «Oh, e come sono messo io su questo punto? Com'è la mia vita? Il Signore ha sempre il primo posto per me». Vediamo perciò che la lettera Efeso poteva avere un significato per il singolo che era in Filadelfia. Tutto questo ci indica che anche noi dobbiamo leggere queste lettere. Sì, per dire, quella chiesa in Pergamo oggi non esiste più. In Tiatiri non c'è una chiesa. Perciò, cosa vogliono comunicare a noi queste lettere oggi, visto che non esiste più una chiesa in Pergamo? Ebbene, queste lettere avevano un significato in quell'epoca per Pergamo, Tiatiri, eccetera. E noi oggi dobbiamo chiederci cosa significano quelle lettere per le nostre assemblee. Ognuno deve chiederselo, e non solo in relazione con la chiesa locale o nel suo complesso, ma chiedersi anche come queste lettere sono in relazione con la nostra vita. Può essere infatti che l'assemblea locale sia in buono stato al punto da dire «No, Efeso non lo possiamo rapportare alla nostra situazione». Ottimo, ma è così anche per ogni singolo membro di quell'assemblea? Oppure c'è qualcuno che in effetti ha abbandonato il primo amore? Sì, forse l'intera assemblea non è contrassegnata dall'aver lasciato il primo amore, ma è così anche per il singolo. In tal caso, per quel singolo ci potrebbero essere delle ripercussioni morali. È in quell'ottica che dobbiamo leggere queste lettere. Quelle lettere hanno in ogni tempo qualcosa da comunicare alla mia persona, così come anche per la chiesa che frequento. Ma, contemporaneamente, in queste lettere ci vediamo anche un significato profetico, nel quale troviamo l'intera storia della chiesa. Da ragazzo ricordo di aver letto un commentario che illustrava proprio questo aspetto profetico delle lettere. Un commentario molto conciso e diretto, ma illuminante. Fui davvero impressionato da quella lettura. Era interessante, infatti, notare che la sequenza cronologica di queste lettere, cioè Efeso, Smirne, Pergamo, eccetera, corrispondesse esattamente alla sequenza cronologica delle epoche attraversate dalla chiesa fino ad oggi. Voglio dire, se per esempio Efeso si fosse trovata alla fine e l'audicea all'inizio, allora non ci troveremmo. Oppure, se la lettera a Teatiri fosse l'ultima lettera, che so, la lettera all'audicea si trovasse al posto di quella di Teatiri, non si risolverebbe la cronologia. E così mi sono chiesto quante possibilità c'erano di ordinare diversamente le lettere in modo da non corrispondere con la storia della chiesa. È un calcolo molto semplice da fare. Basta sapere la formula. Si tratta, infatti, di un calcolo delle probabilità. Un calcolo combinatorio che, in pratica, possiamo esporre in maniera seguente. C'è Maria e c'è Gianni, che sono seduti su due sedie. Quante possibilità vi sono per farli sedere su queste sedie? Molto semplice. Due. Maria può stare seduta a destra e Gianni a sinistra. Oppure Maria a sinistra e Gianni a destra. Ma se a questi si aggiunge Bruno con una terza sedia, allora aumentano le possibilità di ordinare i tre. Sì, Maria può stare qui e Gianni e Bruno potrebbero scambiarsi. Oppure Gianni rimane e Maria e Bruno si scambiano di posizione da una parte e dall'altra e così via. E con quattro aumentano ancora di più le possibilità. Ma il calcolo da fare, dicevo, è molto semplice. Si tratta di un calcolo fattoriale e nel caso delle nostre lettere è 7 il fattoriale. Si scrive 7 è un punto esclamativo che sta per distinguere il fattoriale. Il calcolo da fare è, tornando all'esempio con Gianni e Maria, abbiamo un calcolo 2 fattoriale. Quindi si fa 1 per 2 possibilità uguale 2 possibilità. Aggiungendo Bruno, quindi abbiamo un calcolo 3 fattoriale. Si calcola 1 per 2 per 3 uguale 6 possibilità. E ora, con le 7 lettere, abbiamo un calcolo 7 fattoriale. E si calcola 1 per 2 per 3 per 4 per 5 per 6 e per 7 e fa 5040. Perciò avremmo avuto 5039 probabilità di avere le lettere in ordine errato. Ma nella Bibbia troviamo proprio la 5040 probabilità. Già solo questo dato dovrebbe farci riflettere. Tornando alla lettera Efeso, al capitolo 2, versetto 2, il Signore Gesù dice «Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza». Comincia con una lode. Il Signore Gesù sa quanto è attiva questa chiesa e quanto si dà da fare. Tuttavia, se quando leggiamo la Bibbia cerchiamo sempre di confrontare con altri passi, allora già in queste parole potremmo scorgere una critica. Perché? Apriamo in Prima Tessalonicesi 1. Qui l'Apostolo Paolo parla ai credenti in Tessalonica. In Tessalonica c'era un'assemblea molto giovane e molto motivata. E Paolo cita loro proprio queste tre espressioni. Dal versetto 3 dice «Noi rendiamo del continuo grazie a Dio tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede». Abbiamo la stessa parola opera, ma in questo caso abbiamo opera di fede. Poi «La fatica del vostro amore è la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo». Qui dunque non si parla semplicemente di opere di fatica, ma si specifica di opere della fede e fatica del vostro amore. Quest'ultimo significa molto di più. È un amore divino che nasce dall'agape. E ancora costanza, ma non costanza e basta. Sì, si può essere costanti semplicemente attendendo. Ma attendendo cosa? Infatti potrebbe essere un'attesa in stile dell'opera, aspettando Godot. Sì, quell'opera teatrale scritta da Samuel Beckett, un ateista che scrisse questa sceneggiatura in cui due persone stanno tutto il tempo sul palco. Questi due in pratica si incontrano all'inizio e cominciano a parlare tra loro. Ma quello che si dicono non ha alcun senso. Ambe due però aspettano che arrivi Godot. E tuttavia Godot non arriverà mai. E con quest'opera lo scrittore intendeva trasmettere che quei due che si incontrano sul palco rappresentano nella vita persone che attendono Dio. Ecco perché Godot. Quel nome in inglese è un'allusione a Dio. E Dio non arriva mai. Un po' come dire, eh, i cristiani che aspettano l'arrivo di Gesù Cristo. Non ha alcun senso. La vita è solo conversazione e alla fine non viene nessuno. Completamente senza speranza. Ma questi comunque attendono e continuano ad attendere. E quella è costanza. Aspettano che arrivi Godot e lui non viene. E il Signore Gesù in Apocalisse dice appunto, conosco la tua costanza. Mentre Paolo abbiamo visto ai tessalonicesi, si ricorda la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo. Si tratta di una costanza ben definita. A Efeso invece possiamo intravederci una critica già nelle parole. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza. Tutte qualità buone, tuttavia, sono opere di fede. E quella fatica è fatica del vostro amore. Ed è costanza sulla venuta di Gesù Cristo. Se non è così, allora manca l'essenziale. Certo, il Signore Gesù dice poi, abbiamo ancora qualcosa di positivo, hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono. E li hai trovati bugiardi. È una lode anche questa. Qui si tratta che sono venute persone che hanno detto loro. Noi siamo apostoli, alla stessa maniera dei dodici, come l'Apostolo Paolo. Ma il Nuovo Testamento dice chiaramente che ci sono solo quei dodici che il Signore nominò con una particolare autorità. E questo, a proposito, in vista delle dodici tribù. E ancora l'Apostolo Paolo inserito come apostolo in vista dei popoli pagani. Oltre a loro non abbiamo altri apostoli. È importante da notare, questi apostoli non hanno mai inserito dei loro successori. Non c'è mai stata una successione apostolica. E infatti, l'ultimo apostolo vivente ancora a fine primo secolo era Giovanni. Tutti gli altri erano già a casa. E ancora, da Efesini capitolo 2, versetto 20, sappiamo che la Chiesa è costruita sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Questa, perciò, possiamo dire essere la base del Tempio dal quale l'edificio spirituale comincia a crescere. Ogni credente è un mattone che si aggiunge a questo edificio e questo andrà avanti così fino a quando l'edificio sarà completo. E allora ci sarà il rapimento. Tuttavia, il fondamento sono appunto gli apostoli e i profeti. E, dalle delizia, sappiamo che le fondamenta non si gettano una seconda volta all'ultimo piano di una costruzione. Questo significa che se oggi arriva gente... Questi arrivano, eh? Gente che dice, ecco, ti presento l'apostolo Pinco Pallo o ecco l'apostolo tal dei tali. Beh, questo non va affatto. Le fondamenta sono alla base. E quegli apostoli, appunto, insieme ai profeti neotestamentari, come Marco, Luca, i quali non erano apostoli, come anche Giacomo e Giuda. Anche loro non erano apostoli. Ma tutti questi erano autori ispirati, riconosciuti dai dodici apostoli. Tutti questi quindi formano la base, le fondamenta. Ma vediamo che già a quel tempo c'era gente che veniva e diceva, Ehi, anch'io sono un apostolo. Ma il Signore Gesù dice a Efeso, hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. C'è da dire che oggigiorno, se qualcuno agisse così... Sì, oggi si ragiona in termini. Giudicare negativamente come hanno fatto questi in Efeso non è una cosa bella. Ma come? Questi li hanno messi alla prova e gli hanno detto in faccia voi siete bugiardi? Eh, però il Signore Gesù loda questa chiesa che ha fatto questo. Tuttavia, la cosa triste era l'atteggiamento interno tenuto da questa chiesa. Per questo motivo il Signore Gesù dice poi al versetto 4, Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. E cos'è il primo amore? È l'amore che dà al Signore Gesù il primo posto, il quale non è disposto ad accettare il secondo posto nella vita di una persona, o tutto oppure niente. Ed ecco perché il Signore Gesù dice apertamente al versetto 5, Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti. In pratica dice, riconosci di avere peccato e ravvediti, e fa le opere di prima. Ma come? Avevamo letto all'inizio che questi le facevano. Eh, ma le prime opere che facevano erano opere della fede e dell'amore, e non opere generiche. Ecco perché dice, fa le opere di prima. Sono intese opere nelle quali il Signore aveva appunto il primo posto. E poi dice, se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Significa che se la chiesa di Efeso non intraprende un ravvedimento, allora il Signore Gesù toglierà loro la testimonianza. E infatti questo poi è avvenuto. Passò molto tempo, ma poi avvenne che quel territorio fu conquistato dall'Islam e quella conquista portò che in quella zona il Cristianesimo, il quale era nato lì al tempo degli Apostoli. Dagli atti infatti sappiamo come Paolo ha predicato intensivamente in tutto quel territorio dell'odierna Turchia, formando molte assemblee. Ma poi dicevo, attraverso quella conquista avvenuta durante il VII secolo da parte dell'Islam, il Cristianesimo venne fortemente represso e in molti luoghi addirittura estinto. E da allora finì il periodo della testimonianza. La lampada fu tolta. E a proposito, questa era anche una procedura attuata all'interno del Tempio in Gerusalemme. Nel secondo Tempio c'era anche lì una menorà, c'era anche il tavolo della presentazione dei pani e l'altare d'oro dei profumi. Ma per ogni accessorio c'erano sempre dei ricambi pronti alla sostituzione, custoditi sul monte del Tempio. E se per un motivo qualunque un accessorio all'interno del Tempio diventava impuro, che so, per esempio nel caso in cui un sacerdote con un'errata procedura rendeva appunto l'accessorio impuro, allora quell'accessorio doveva essere tolto e rimpiazzato con il suo ricambio. Perciò, quando il Signore Gesù dice che rimuoverà il candelabro dal suo posto, allora abbiamo proprio quel caso, come nel caso del Tempio, in cui il candelabro viene sostituito. Ed è a quella procedura che qui si allude. Se dunque il Signore non ha il primo posto, allora come Chiesa non si potrà nemmeno più portare la sua testimonianza. Ma poi nella lettera troviamo ancora una lode. Qui dice «Tuttavia hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti che odio anch'io». I Nicolaiti erano degli adepti di una falsa dottrina di tipo gnostico. Gli gnostici erano persone che sostenevano che Gesù Cristo in realtà non era un uomo a tutti gli effetti, che avesse ricevuto solo apparentemente un corpo da uomo. Questi quindi negavano i fatti basilari della cristianità. E, a proposito, il Vangelo di Giovanni fu scritto appositamente per contendere la dottrina gnostica. Ecco perché in quel Vangelo si enuncia solennemente «E la parola si è fatta carne, ed ha abitato fra di noi». Perciò la parola, ovvero l'Eterno Figlio di Dio, divenne uomo in tutto e per tutto, ci dice Giovanni 1,14. Ma anche le prime due lettere di Giovanni erano lettere scritte per contrastare la falsa dottrina dell'ognosticismo. E il Signore quindi in Apocalisse vede positivo questo atteggiamento e dice appunto «Hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti che odio anch'io». Da notare qui il fatto che non dice che questi odiavano i Nicolaiti, ma che odiavano le opere dei Nicolaiti. Non è la stessa cosa. Sì, se si odia una falsa dottrina, allora questo non significa che si odiano le persone che la professano. Beh, c'è da dire che ai nostri giorni l'odio è qualcosa che nella cristianità non si accetta in nessun tipo di forma. Si dice «Bisogna essere positive e citare solo le cose positive». Non è così. Qui vediamo che il Signore inizialmente loda le cose positive, ed è molto importante dire per prima le cose positive, ma poi indica le cose da correggere. Dice tutta la verità. E poi cita positivamente il fatto che quando si odiano le cose che secondo la parola di Dio sono false, allora l'odio in quel caso è qualcosa di buono. Poi leggiamo ancora che dice «Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese». Tutto ciò che è stato espresso fino a quel punto deve essere accolto dall'udito e dal cuore da parte di tutti. Per prima cosa bisogna ascoltare, perché solo così possiamo accogliere il messaggio nel cuore. E infine abbiamo una promessa per i vincitori. Qui dice «A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio». In ogni lettera vedremo che vi è una particolare promessa per coloro che saranno vincitori. Ma chi viene inteso per vincitore? Molto semplice. L'uomo che ha scritto l'Apocalisse è la stessa persona che ha scritto la prima lettera di Giovanni. E in quella lettera al capitolo 5 versetto 4 dice «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo». E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. I vincitori perciò sono coloro che per davvero sono nati di nuovo. Ora però è molto importante notare che in Apocalisse capitoli 2 e 3 vediamo che il Signore Gesù si rivolge alla Chiesa nel suo complesso e a tutti i cristiani che si rivolge. Ma se tutti questi cristiani erano anche tutti dei nati di nuovo, questa è una seconda domanda. Ma perché? Può essere. Certo che può essere. L'Apostolo Paolo parla in Galati capitolo 2 di falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù. A Costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda. Già a quel tempo, quando c'erano ancora gli Apostoli, c'era gente che si era introfulata nelle assemblee. Anche la lettera Giuda parla di gente che si era introdotta abusivamente. Voglio dire, questa mescolanza all'interno del cristianesimo non è avvenuta tempo dopo, quando gli Apostoli non c'erano più, ma è cominciata da subito, nel primo secolo. Per questo motivo, in Apocalisse capitoli 2 e 3, quando si parla alle chiese con vincitori, sono intesi coloro che sono nati di nuovo. Con la nuova vita si ha la forza di superare questi mali. E questi vincitori vedremo che saranno nominati in tutte le lettere. Ma per oggi terminiamo qui. Grazie per la vostra presenza.